Ciao a tutti, benvenuti, siamo al Fibic, anche quest'anno per l'Ethical Chef Day. Sono onorato e sempre più felice di aver condiviso questa idea con Luciano Guidi. È diventato un appuntamento importantissimo nel mondo della gastronomia. Vi aspetto numerosi per questi tramonti meravigliosi. Ci saranno dieci buoni amici che cucineranno per voi. A presto, all'Ethical Chef Day. Ciao. 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 Ciao.